Benvenuti da Naro Sensei Oggi vi regalo veramente una chicca d'oro, d'oro massiccio Di cosa parliamo? Parliamo di mail Chi non ha mai avuto il bisogno di avere una mail sicura di mandare o di ricevere materiale assolutamente confidenziale Chi è che ha bisogno di fare questo? Penso un po' a tutti, specie adesso nell'epoca in cui siamo assolutamente spiati in ogni dove Perciò se voi schiacciate e cliccate mail su Google vi ritroverete oltre a Gmail, Libero, Yahoo, Team, Virgilio, Tiscali una marea di boiate di mail inutili che non fanno altro di appiopparvi pubblicità di appiopparvi spam, pop up, eccetera Queste mail bellissime possono spiarvi o farvi spiare da chiunque in qualsiasi momento Perché farvi spiare? Non lo so Perciò ascoltate il mio bellissimo consiglio Ovvero provate ad utilizzare o farvi un semplicissimo account e fare qualche test con ProtonMail Per chi non lo conoscesse è veramente il capostipite delle mail criptate E' stato creato, pensate un po', questa è la pagina ufficiale E' stata creata dagli operatori del CERN, niente po' po' di meno Proprio per un discorso privato tra di loro per mandarsi mail criptografate, quindi private senza che nessuno potesse accedere alle loro conoscenze tra di loro proprio dentro il CERN in pratica Dopodiché hanno detto ma perché non dare a tutto il mondo la possibilità di avere una mail realmente privata e sicura? Perciò loro danno questa bellissima opportunità L'infrastruttura di ProtonMail risiede nei data center più sicuri d'Europa sotto a mille metri di solida roccia svizzera Quindi io direi che ci siamo a parte il discorso anti-atomico la Svizzera è famosa per avere un discorso di privacy e di, come posso dire, i conti svizzeri di anonimato, esatto, questa è la parola fondamentale di anonimato per eccellenza E' stata fondata nel 2013 questa mail quindi non è nuova, ok? E' da anni che tanti la usano specie, non so, chi vuole fare vendite su ebay che vuole vendere e comprare chi vuole mandare licenze chi vuole passare informazioni è una figata, ok? Datevi una letta a tutte le caratteristiche e scoprirete che è fichissima Ci sono logicamente dei pro e dei contro il contro è che se voi usate la versione base avete meno rispetto a una versione a pagamento comunque la versione a pagamento non vi da cose pazzesche a meno che voi non siate proprio come posso dire delle banche o qualcuno che deve fare quello per lavoro quindi delle imprese, eccetera se voi vi iscrivete con l'accanto gratis avete 500 MB di spazio che, credetemi, a livello di mail basta e avanza 150 messaggi al giorno supporto limitato vabbè non è una tragedia se iniziate a spendere 4 ore al mese oltre allo spazio in più potete inviare fino a 1000 messaggi al giorno cioè chi è che manda 1000 mail al giorno? personalmente io no solo se dovete fare pubblicità o spammare roba in giro altrimenti non ha senso comunque vi da un po' di robetta extra nella versione visionari che include anche l'accesso a ProtonVPN che è un'altra robettina simpatica che vi spiegherò più avanti e allora una volta iscritti voi accederete ad una mail come questa intanto c'è anche l'app per il cellulare quindi potete fare tutto sia attraverso il pc che tramite il cellulare ed è gratis ok? ricordo è gratis una volta che fate componi potete mandare una mail e fare cosa? beh è molto semplice i classici legati e di questo non ci interessa niente data di scadenza ovvero potete fare in modo che la mail con tutto il contenuto scada entro un tot di giorni entro un tot di ore o di settimane se la persona la riceve e la legge bene altrimenti non la può più aprire cosa assolutamente fantastica quindi anche se arriva in una mail come tiscali libero virgilio eccetera non la apre più stessa cosa anche per la crittografia ovvero vuoi aprire la mail mi devi dare una password quindi mettete la password nel messaggio conferma password potete mettere anche il suggerimento ma direi anche di no sennò magari qualcuno ve la becca ma se dovete sparare a qualcuno un file un pdf qualcosa di personale anche foto eccetera potete benissimo mettere una password e oserei dire è una figata quasi nessuna mail può darvi queste cose io ne ho provate tante ce ne sono anche di altro tipo ma proton mail è veramente la number one quindi andate sicuri e fidatevi comunque niente vi costa fare un tentativo di una mail gratis non è niente di che come vedete potete accedere e cambiare in qualsiasi momento ai vostri piani e alle vostre tariffe e basta io ho svariate mail gratuite per tutte le mie esigenze e devo dire che è veramente molto bella fatta bene e siete sicuri perché ha la criptografia end to end come come whatsapp come tutte quante le app ultimamente che sono venute fuori dateci un occhio fatemi sapere iscrivetevi al canale se sono stato utile e al prossimo video bye bye ciao